buongiorno a tutti siamo qui per un nuovo video questa volta ispirato da un commento che mi è arrivato direttamente sul nostro canale youtube ci è stato chiesto come viene effettuata la pulizia negli scambiatori di calore a fascio tubiero gli scambiatori di calore a fascio tubiero possono essere di diversi tipi diciamo che i due tipi principali sono quelli a chioma ovvero a fascio tubiero ad u estraibile e quelli a tubi dritti scovolabili c'è una sostanziale differenza a livello costruttivo che ho spiegato in un video in alcuni post sempre su questo blog diciamo che uno scambiatore a tubi dritti scovolabili solitamente viene impiegato facendo passare all'interno dei tubi il fluido sporco mentre nel mantello viene fatto passare il fluido pulito questo perché solitamente il mantello non è smontabile quindi si possono pulire solamente i tubi come si puliscono o con un lavaggio oppure smontando le due testate e con degli scovolini si fanno passare questi scovolini all'interno dei tubi e si va a fare una pulizia interna dei tubi di tipo meccanico operazione piuttosto semplice anche se dipende molto dalla lunghezza del fascio tubiero perché chiaramente se il fascio tubiero è molto lungo abbiamo bisogno di uno spazio contiguo dal quale far entrare lo spazzolino lo scovolino per poter andare a pulire tutto il tubo ovviamente se il tubo è molto lungo diventa complicato andare a fare una pulizia adeguata nel punto centrale della tubazione però diciamo che è un'operazione fattibile e abbastanza semplice negli scambiatori a fascio tubiero a u estraibile la parte lavabile è quella del mantello ovvero si estrae il fascio tubiero a u e si può pulire con un idropulitrice o con delle spazzole l'esterno dei tubi operazione non molto semplice perché perché tra un tubo e l'altro chiaramente diventa difficile poter entrare a fare un lavaggio accurato all'interno dei tubi invece non è possibile fare un lavaggio perché perché i tubi in fondo hanno una curva ad u e quindi diciamo che quella parte non verrebbe pulita si può fare chiaramente un lavaggio chimico con degli aggressivi con dei prodotti chimici con dei detergenti per andare a pulire l'interno delle tubazioni ma chiaramente è un'operazione che se lo sporco ha completamente intrasato lo scambiatore non è più possibile fare queste sono le operazioni che si fanno solitamente per il lavaggio degli scambiatori se vi interessa l'argomento possiamo svilupparlo ulteriormente buona giornata e grazie 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 grazie